E' il giorno del silenzio elettorale. Domani in Puglia saranno 50 i comuni in cui si vota per l'elezione di nuovi sindaci e consiglieri. Tra questi ci sono anche due capoluoghi di provincia, Taranto e Barletta. Si vota in un giorno unico, dalle 7 alle 23 per accedere alle urne e votare. La mascherina resta fortemente raccomandata. Escludendo i capoluoghi, ci sono altri 16 comuni con più di 15.000 abitanti per i quali è previsto un eventuale turno di ballottaggio. In contemporanea in tutta Italia si voterà anche per i 5 referendum sulla giustizia che hanno avuto il via libera dalla Corte Costituzionale. Spiccano nel Barese le sfide di Bitonto, Molfetta, Giovinazzo, Gravina e Terlizzi, mentre nel Tarantino c'è al voto anche Martina Franca. Nella Bat, oltre a Barletta, saranno chiamati al voto anche i cittadini di Canosa e San Ferdinando. Curiosità nell'Eccese, con due comuni, San Cassiano e Mattino, dove c'è un solo candidato e una sola lista. Proprio per situazioni come queste c'è una novità importante, fermo restando che i voti validi all'unica lista ammessa non devono essere inferiori al 50% dei votanti, sarà sufficiente però che il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori. In pratica è previsto un quorum più basso per la validità dell'elezione. Le sfide più interessanti sono sicuramente nei due capoluoghi di provincia. A Taranto il centro-sinistra sostiene compatto l'ex sindaco Rinaldo Melucci, PD e Movimento 5 Stelle assieme, con diverse altre liste civiche e i tradizionali partiti di centro-sinistra. Di contro il centro-destra ha scommesso sull'ex segretario del PD Walter Musillo, tra i fondatori del raggruppamento Patto per Taranto. Sono dieci le liste che sostengono Musillo, tra cui Forza Italia, Fratelli d'Italia, Prima l'Italia, Patto Popolare. Gli altri due sfidanti sono Massimo Battista, operaio in casa integrazione di Ilva e consigliere comunale uscente, oltre al giornalista Luigi Abbate, sostenuto da tre liste. Anche a Barletta sono quattro i candidati sindaci. C'è Santa Scommegna, con sei liste al seguito, compresa quella del PD. Non c'è invece il Movimento 5 Stelle, che correrà da solo con l'ex consigliera Mariangela Carone. Stessa scelta per sinistra italiana, che sarà al fianco della coalizione civica di Carmine Doronzo. Per il centro-destra il sostegno all'ex sindaco Cosimo Cannito, con otto liste al seguito. Sfida interessante anche a Bitonto, dove sicuramente non ci sarà ballottaggio, visto che i candidati alla carica di primo cittadino saranno solo due. L'ex consigliere regionale di Forza Italia, Domenico D'Ammascelli, candidato per il centro-destra, sfida Francesco Paolo Ricci, sostenuto da quasi tutto il centro-sinistra. Nell'abbatto ci saranno altre due sfide importanti, come quella di Canosa di Puglia, dove, dopo cinque anni di governo, prova la rielezione del sindaco uscente Roberto Morra, con una coalizione formata da Movimento 5 Stelle e PD. Il centro-destra punta su Vito Malcangio, mentre i civici Tomaselli e Schirone completano il quadro delle candidature. A San Ferdinando, infine, comune con meno di 15.000 abitanti, saranno sempre in quattro a sfidarsi. Il sindaco uscente Salvatore Puttigli, oltre ad Arianna Camporeale, Elena Pestillo e Maria Riccarda Scaringi.